benissimo allora ho proprio fame vediamo un po che cosa possiamo preparare prendiamo questo lingotto di formaggione gusto pongo e con le mani belle pulite con la posizione delle incrociate con i piedi nudi andiamo a spalmare a spalmare insomma quello che troviamo a terra ci può essere qualche fungo qualche caccola qualche verdura insomma mischiamo un pochettino tutto e formiamo bello deve essere bello bello pieno mettiamoci in mezzo questa mattonella di maiolica al lattosio e creiamo questi palloni più che sandwich sono palloni poi c'è questo ragazzo bello cioè bello ecco con tanto olio di gomito ma anche peli di gomito e sudore di gomito insomma ecco vedete che va ad intingere queste cose nella pittura gialla lavabile e poi la cuociamo nel nella coca cola e dove la vuoi cuocere nella coca cola ecco va benissimo va benissimo perché la coca cola quella comincia a vaporizzare ecco e si formeranno dei veri mattoni che non mettiamo poi sulla non mettiamo ad asciugare per bene no rimettiamo lì dentro facciamo una prima frittura e poi giustamente una seconda frittura ecco poi li benediciamo con benediciamo con acqua santa perché è l'unico modo in cui poi potrebbero essere mangiati e vedete che più li friggete più acquisiscono questo colore fluorescente perché deve essere così li ritogliamo li mettiamo in teglia poi mettiamo un altro mestolone di coca cola pepsi e olio motore di auto che hanno almeno 30 anni quindi auto d'epoca sicuramente auto d'epoca quando si sono formati questi mattoni ora voi potrete anche usarli per per edificare mura e quello che volete mi raccomando quando tagliate i piedi devono essere scalzi devono essere scalzi perché non sia mai insomma che succede cioè le scarpe le scarpe sono un'invenzione noi siamo nati a piedi nudi ma perché dobbiamo mettere le scarpe cioè fai ritorniamo alla terra e se mangiamo ste cose veramente ritorniamo alla terra ma subito sotto terra proprio e non contenti e perché una frittura due fritture erano poco tre fritture tre fritture una dietro l'altra con questo gong poi dopo solleviamo tutto e in un sacchetto di carta questa già è una grande cosa un sacchetto di carta non ce l'ha dato direttamente in mano ecco mettiamo dentro e arricchiamo con scodelle varie di di roba mista di roba mista insomma acqua di palude acqua di gange buon appetito sì sì guardate che sapore